Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'incontro sulla sanità gelese che si è svolto a Palermo con l'assessore regionale Baldo Gucciardi. Sono stati affrontati i problemi della sanità cittadina con particolare riferimento all'ospedale Vittorio Emanuele. L'esponente della giunta Crocetta ha riferito di conoscere perfettamente le criticità del nostro comio gelese. Assente all'incontro il manager Carmelo Iacono, tuona il sindaco di Gela Domenico Messinese. Dal mancato utilizzo delle cure termiche ai ritardi nell'apertura del nuovo pronto soccorso, dai guasti cronici dell'attacca ai servizi oncologici negati. Sono i punti dibattuti ieri a Palermo durante l'incontro che il sindaco di Gela Domenico Messinese ha avuto con l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi affrontati i problemi della sanità cittadina con particolare riferimento all'ospedale Vittorio Emanuele. L'esponente della giunta Crocetta ha riferito di conoscere perfettamente le criticità del nostro comio locale e se dopo vari mesi continuiamo a parlarne è perché non sono state risolte. Il confronto con Gucciardi è stato richiesto dall'assessore comunale Francesco Salimitro a seguito dell'ultima conferenza dei sindaci nella quale la questione gelese era stata posta in secondo piano. Ieri all'incontro non era presente il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, Carmelo Iacono. E' intollerabile la mancanza del direttore generale Iacono alla riunione che si è tenuta ieri a Palermo davanti all'assessore Gucciardi. Questo dimostra la mancanza di sensibilità sui problemi reali che abbiamo a Gela. Questa attività sicuramente non può passare inosservata perché oltre alla mancanza di rispetto di non permettersi nemmeno di abitare vuol dire che di fondo non c'è un interessamento dei problemi reali. Fino adesso abbiamo avuto molte chiacchiere ma di sostanza sostanzialmente non ce n'è stata. Di conseguenza questo è stato fatto rappresentare all'assessore. Vedremo i provvedimenti che prenderà sia l'assessore e sicuramente da parte del Comune di Gela faremo le nostre istanze in modo forse perché questo direttore dia delle risposte reali e veri al territorio. Saranno presentate venerdì 20 maggio prossimo dalle 18 nei locali dell'Ona l'Osservatorio Nazionale Amianto in corso Vittorio Emanuele 168 a Gela le ultime iniziative a tutela e difesa dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie e la linea di azione per il coinvolgimento di tutte le forze politiche istituzionali affinché venga trattata e risolta la problematica Amianto. Lo comunica il Presidente Salvatore Granvillano. Cambiamo argomento. In un teatro l'eschi lo gremito in ogni ordine di posti. Ieri sera il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi ha presentato il suo libro Dal cielo alla terra da Michelangelo a Caravaggio. La sua visita a Gela però non si è limitata alla lezione magistralis tenuta in serata. Sgarbi ha approfittato dell'occasione per visitare alcuni dei posti più interessanti della nostra città. Tra questi il Museo archeologico regionale dove il nostro Franco Gallo assieme al cameraman Antonio Burgio ha incontrato Vittorio Sgarbi che gli ha rilasciato una interessante e lunga intervista con Al Centro Gela. Adesso noi vi proponiamo uno stralcio mentre l'intervista integrale andrà in onda in coda a questa edizione del telegiornale. Sentiamo Franco Gallo con Sgarbi. Professore Sgarbi siamo all'interno del Museo regionale di Gela una città di 75 mila abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più. Come si salva? Si salva riveditando a quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo e io da tempo incontro Crocetta perché ho una specie di turbamento personale. Mi dispiace che uno stia cinque anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della regione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé. Sparisce come fumo. Lui ho detto negli ultimi due anni se gli mancano due cerca di fare qualcosa e ho individuato Morgantina come uno dei luoghi su cui puoi intervenire. Ma io credo che se lui di Imperio annulla quell'inutile e brutto progetto per il Museo della Nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettano tutte le opere nel massimo dello smalto. Però occorre a qualcuno che non... Lo dico perché avendo fatto un museo, ho fatto il Museo della Mafia, il Museo della Follia il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio e se voi andate a vedere il Museo della Follia lo vedete non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento ma io credo che con due milioni di euro che sono una cifra forse a disposizione della regione uno possa fare un museo perfetto entro il tempo della scadenza di Crocetta. Io lo sfido a farlo. Senta ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure? Non è che mi è venuta in mente in questo momento questa cosa per lui lo dico non per me Ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri sì? La gente può perdere tempo, vogliono guadagnare quattro soldi quindi obiettivamente l'articolo della Costituzione io adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Ainis La Costituzione e la bellezza indica che la Repubblica è forata sul lavoro ma sono uno scemo lavora cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente ma quando viene da me un disoccupato e mi dice voglio lavoro dico quando sei così felice che puoi non lavorare perché puoi lavorare? Uno che sta in Sicilia come fa a lavorare? Non può lavorare Ma non lo può dire però questo discorso aggela oggi che abbiamo un mare di disoccupati grazie allo stabilimento che va via Ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro dico che nella condizione del non lavoro cioè dell'ozium c'è un privilegio è chiaro poi che qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare Finché ci sono i genitori e i nonni con la pensione poi diventa un problema dopo Però è anche vero che tolto il tema sociale tutto il meridione non è evocato a lavorare lo dico per rispondere alla domanda poi io sono uno che lavora Tornevo alla domanda come la salviamo questa città? No a parte la città io penso come salviamo Crocetta e la sua anima? No ci interessa più Gela che Crocetta La gente che dice cose molto semplici perché tutti rivendicano il lavoro, il posto e quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cavotaggio delle piccole cose che invece dovrebbe cominciare a immaginare più grande per la sua città e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno, non so, 500.000 persone all'anno Se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia cioè di ripartire, è finita un'industria e ne comincia un'altra Sarà Yolanda Gutta d'Auro funzionario del Ministero del Lavoro la relatrice della conferenza di battito organizzata dalla Lions Club del Golfo di Gela preseduto da Eugenio Piazza in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti la Conf Commercio e l'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela L'iniziativa si terrà sabato 21 maggio alle 18 nell'aulamagna del liceo classico Eschilo il tema e le politiche attive del lavoro versione 2.0 la riforma dei servizi per il lavoro da garanzia giovani al Jobs Act si terrà domani alle 10 nella chiesetta di San Biagio a Gela la presentazione di Life più Green Wolf un progetto cofinanziato dalla comunità europea mediante lo strumento finanziario Life l'iniziativa ha lo scopo di dimostrare la fattibilità della conversione di scarti di lana in fertilizzante ammendante usando un impianto di idrolisi locale questo per ridurre i costi di trasporto sia di lana che di fertilizzante ed eliminare il lavaggio e lo smaltimento delle lane grossolane all'incontro prenderanno parte tra gli altri il sindaco Domenico Messinese l'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano il responsabile dell'ufficio Europa e Bandi Tonino Collura Giuseppe Grande e Mirko Gianzetti del Politecnico di Torino e gli amministratori di EcoShip Utenze non pagate gli animi che si riscaldano qualche parolina di troppo e scoppia il finimondo Maxi Rissa ieri pomeriggio in uno stabile di via gentile nel quartiere Punte Vigne a Gela se le sono suonate di santa ragione anche la presenza dei carabinieri del reparto territoriale intervenuti immediatamente sul posto gli stessi militari dell'arma stento sono riusciti a sedare la colluttazione e a separare i rissanti uno di loro è stato colpito con un calcio l'addome è trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele ne avrà per tre giorni e alla fine della contesa sono scattati sette arresti i protagonisti su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati collocati ai domiciliari in attesa del processo per dirattissima che sarà celebrato nelle prossime ore l'accusa è di rissa aggravata gli arrestati sono Saverio Scilio di 38 anni Alessandro Scilio di 37 Rosario Scilio di 67 Davide Scilio di 34 e Daniele Giovanni Scilio di 31 anni fanno tutti parte di un intero nucleo familiare ai domiciliari anche Grazio Fauciana 58 anni e il genero di quest'ultimo Monur El Kazan cittadino marocchino di 36 anni i militari dell'arma a seguito di una richiesta di ausilio giunta al 112 sono intervenuti con più pattuglie la situazione era preoccupante i setterrissanti come dicevamo anche alla presenza dei carabinieri non hanno smesso continuando imperterriti pugni, pedate, schiaffi un ring improvvisato trasferiti in caserma sono stati identificati e arrestati parte a Gela la campagna di sostegno per la raccolta di fondi Teleton il gruppo scout Gesci Gela 5 in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia sabato 21 e domenica 22 maggio prossimi allestirà dei banchetti diranzi alla parrocchia per la distribuzione di eleganti confezioni di biscotti che sosterranno l'iniziativa la pagina politica l'Udc fa il suo ingresso in consiglio comunale a Gela l'ingresso in consiglio comunale dell'Udc ci dà forza assieme possiamo fare tanto e l'impegno non manca criticeremo quando ci sarà da criticare analizzando i problemi a fondo è il concetto ripetito ieri durante l'incontro con la stampa dai vertici locali e provinciali dell'Udc in occasione dell'ingresso nel partito del consigliere comunale Giovanni Panebianco il segretario provinciale Angelo Bellina continua il processo di crescita del nostro partito non solo nella provincia di Caltanissetta ma soprattutto nel contesto regionale pare che ci danno al 10% frutto di tutto questo è il merito dell'ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro leader regionale Assessore Gianluca Miciche che in stretta sinergia con il nostro leader nazionale Onorevole Giampiero D'Alia che si raccorda sempre con la segretaria provinciale diretta da me e dalla Presidente Oriana Mannella e dalla segretaria cittadina di Gela di Totò in Cardona e Patrizia Comantatore cresce in maniera sproporzionata è un risultato importante per l'Udc questa nuova adesione del consigliere Giovanni Panebianco se a pensare che l'anno scorso l'Udc non esisteva non è stato presente alle elezioni amministrative non sicuramente per volontà nostra perché ci sono state le situazioni diciamo tecniche che non ci hanno consentito di presentare una nostra lista un nostro simbolo ebbene abbiamo lavorato silenziosamente coinvolgendo un gruppo di giovani professionisti che si sono voluti scommettere ebbene due mesi fa abbiamo celebrato il nostro congresso abbiamo eletto Salvatore Ingardona come segretario cittadino e Patrizia Comantatore come Presidente è un gruppo di giovani professionisti che si stanno scommettendo e sono al servizio del partito e di conseguenza della propria città L'Udc dunque entra in consiglio comunale ma dove si collocherà? Con l'ingresso in consiglio comunale dell'Udc nella persona di Giovanni Panebianco non cambia niente continua l'azione politica che ha fatto Giovanni così come in stretta sinergia assieme al nostro commissario cittadino noi non saremo né con la maggioranza né con l'opposizione noi saremo col popolo gelesi anche perché il nostro messaggio è un messaggio nuovo di fare politica è un messaggio diverso una politica che deve servire il popolo anziché servirsi dal popolo e quindi essere al servizio portare delle tematiche importanti votarle senza difficoltà purché siano a favore della città gelese se qualora questo non fosse si opporrà in maniera costruttiva e determinata sono stati prorogati i termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Gela Alicia Abela il termine per la presentazione delle domande di buono libro viene posticipato al prossimo 30 maggio i moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente o scaricati dal sito comune.gela.cl.it festa di Santa Rita domenica 22 maggio a Gela alle 19 è prevista la messa in piazza Sant'Agostino preseduta dal vescovo della diocesi di piazza del Merina Rosario Gisana dopo la messa si terrà una breve processione attorno alla piazza la mattina le messe lo ricordiamo sono celebrate alle 8.30 9.30 10.30 e mezzogiorno dopo ogni messa si svolge la benedizione delle rose che sono portate dai devoti ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale rieccoci che apriamo parlandovi della consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato al percorso di educazione alla cittadinanza attiva passaporto del volontariato sono stati consegnati ieri nella sala conferenza dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela gli attestati e gli studenti che hanno partecipato al percorso di educazione alla cittadinanza attiva passaporto del volontariato circa 400 i giovani coinvolti che dal mese di novembre sono impegnati in vari laboratori in tutti i quartieri della città alla cerimonia era presente il direttore del presidio ospedaliero Luciano Fiorella quest'anno numerosi studenti hanno deciso di impegnarsi tra le corsie dell'ospedale il progetto è promosso dalla rete di associazioni della casa del volontariato di Gela e si realizza con il supporto del centro di servizi per il volontariato di Palermo e la collaborazione delle scuole giolesi il volontariato si apre assieme all'ospedale per cercare di trovare soluzioni migliori di offerte di servizi per i pazienti dicevo proprio questo ai ragazzi ringraziandole dell'attività svolta alle associazioni che noi siamo aperti per ricevere suggerimenti preziosi per migliorare ribadisco i servizi che possiamo dare per noi è una punta di orgoglio avere questi giovani è un punto prezioso per la nostra attività poterci confrontare anche con i giovani è una forma di apertura della città che abbiamo iniziato già da parecchio tempo e che abbiamo intenzione di mantenere e ampliare noi abbiamo iniziato con il passaporto del boniato come ogni anno iniziamo sempre all'inizio dell'anno noi cerchiamo di coinvolgere più ragazzi possibili abbiamo visto quasi come mi dicevo all'inizio abbiamo visto tutti i ragazzi degli istituti superiori all'incirco 200 ragazzi hanno aderito all'attività dei laboratori che si sono tenuti sia all'interno della casa del volontariato in altre strutture anche qui all'interno dell'azienda ospedaliera i ragazzi all'inizio sono un po' restrivi nel partecipare nel credere all'associazione poi una volta che riescono a capire il meccanismo si comportano abbastanza bene il progetto è stato realizzato senza alcun contributo pubblico l'obiettivo raggiunto è stato quello di esaltare il valore della gratuità e del dono frutto di un lavoro di rete che già la pone al centro la questione educativa come trasversale a tutte le associazioni di volontariato l'esperienza è quella comunque di far avvicinare i ragazzi al volontariato lo fanno qui in ospedale l'hanno trovato comunque delle parti dove poter prestare la loro attività e l'inizio per loro per cominciare a dare una mano nella società per entrare nel mondo civile lo fanno da studenti e sicuramente questo non può essere altro che comunque un buon viatico per il loro ingresso nel mondo degli adulti strappiamo un sorriso a queste persone ed è bello vedere sorridere far felice a persone che hanno bisogno di queste cose poi penso che continuerò anche il prossimo anno a far parte del volontariato e anche il prossimo anno ancora è stata per me una bellissima esperienza perché mi ha permesso di conoscere nuove persone e di praticare anche una nuova attività che è stata quella della fotografia che mi piace molto perché ci ha permesso anche di scoprire nuovi luoghi della città e l'ennese Giovanni Martello 44 anni che vediamo nella foto il nuovo direttore sportivo del Giola Calcio che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie D Martello sarà presentato sabato prossimo alle 11 nella sala stampa dello stadio Vincenzo Presti il nuovo direttore sportivo Biancazzurro in precedenza ha collaborato con l'Enna la Caragasso la San Cataldese il Ribera il Siracusa lo Scordia e la Leon Fortese si darà domenica 22 maggio tra le vie del centro storico di Gela l'ultima tappa di primavera in bici la manifestazione è promossa dall'associazione sportiva dilettantistica Velo Club che per l'occasione celebrerà il 25esimo anniversario a partire dalle 7.30 di domenica sarà possibile iscriversi alla gara il ritrovo è al bar della Palma di Corso Vittorio Emanuele il percorso è lungo 3 chilometri e attraverserà il Corso Vittorio Emanuele via dell'Acropoli via Generale Cascino e via Navarra Bresmes la manifestazione è patrocinata dal Comune domani sera alle 21 il gioco classico presenta al teatro Eschilo la commedia in tre atti e se capitasse attia di Nino De Maria in scena alunni di varie classi la regia è di Giuseppe Felici aiuto regia Sonia Zaccaria Daniela Fiandaca e Rita Salvo l'ingresso è libero e adesso vi lasciamo all'intervista integrale realizzata da Franco Gallo al critico d'arte Vittorio Sgarbi ieri a Gela nell'ambito della presentazione del suo libro Dal cielo alla terra da Michelangelo a Caravaggio un'intervista che vi consigliamo di seguire noi abbiamo concluso grazie e arrivederci professore Sgarbi siamo all'interno del museo regionale di Gela una città di 75 mila abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più come si salva? si salva riveditando quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo e io da tempo incontro crocetta perché ho una specie di turbamento personale mi dispiace che uno stia cinque anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della legione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé sparisce come fumo gli ultimi due anni se gli mancano due cerca di fare qualcosa e ho individuato Morgantina come uno dei luoghi su cui può intervenire ma io credo che se lui d'imperio annulla quell'inutile e brutto progetto per il museo della nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettano tutte le opere nel massimo dello smalto però occorre qualcuno che non lo dico perché avendo fatto un museo ho fatto il museo della mafia il museo della follia il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio e se voi andate a vedere il museo della follia lo vedete non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento ma io credo che con due milioni di euro che sono una cifra forse a disposizione della regione scadenza di Crocetta io lo sfido a farlo ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure mi è venuto in mente in questo momento questa cosa per lui lo dico non per me ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri si la gente può perdere tempo vogliono guadagnare quattro soldi quindi obiettivamente l'articolo della Costituzione adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Aynes la Costituzione e la bellezza indica che la Repubblica è forata sul lavoro ma sono uno scemo lavora cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente ma quando viene da me un disoccupato e mi dice voglio lavoro dico tu sei così felice che puoi non lavorare perché puoi lavorare uno che sta in Sicilia come fa a lavorare non può lavorare non lo può dire però questo discorso aggela oggi che abbiamo un mare di disoccupati grazie allo stabilimento che va via ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro dico che nella condizione del non lavoro cioè dell'ozium c'è un privilegio è chiaro poi che qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare quindi voi partite già finché ci sono i genitori e i nonni con la pensione poi diventa un problema dopo però è anche vero che tolto il tema sociale tutto il meridione non è evocato a lavorare lo dico per rispondere alla domanda poi io sono uno che lavora e forse torniamo alla domanda come la salviamo questa città? no a parte la città io penso come salviamo Crocetta e la sua anima ci interessa più Gela che Crocetta la gente che dice cose molto semplici perché tutti rivendicano il lavoro il posto e quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cabotaggio delle piccole cose che sono invece dovrebbe cominciare a immaginare più grande per la sua città e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno non so 500.000 persone all'anno se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia cioè di ripartire è finita un'industria ne comincia un'altra però non bisogna pensare che il lavoro deve cadere dall'alto quale che sia perché allora il lavoro ideale sarebbe prendere denaro senza fare assolutamente niente cioè l'assistenza tutto il sistema assistenzialistico esiste perché il Meridione non ha trovato la condizione di far fruttare la sua bellezza e quindi c'è una dimensione parassitaria basata sul fatto che teoricamente sarebbe bene non lavorare ma soltanto alcuni posti perché Maracchè funziona e Gela no perché alcuni posti sono riusciti a conciliare la identità dell'ozio e del piacere con quella del lavoro tu devi trovare questo modo non puoi pensare che l'industria risolve il problema di Gela quindi fin tanto che la bellezza non diventerà produttiva non si potrà continuare a starsene tranquilli senza fare niente traendo vantaggio dal posto in cui sei cioè il posto di per sé produce ecco nel passato ha dimostrato però professore se la bellezza salverà il mondo perché non dovrebbe salvare pure Gela no perché in realtà prima di tutto è il mondo che deve salvare la bellezza se io penso all'altrare qualcuno con un museo come questo non ci viene nessuno quindi non basta la bellezza come lo spiega perché il critico d'arte è un museo così è così poco visitato appunto perché non è è respingente non è non vedi le cose se tu vai a vedere il museo della follia vedi che avendo speso pochissimo uno ci va entra volentieri è attratto è sedotto quindi si guarda come sono messi i cartelli guarda come sono messi i fili le luci vanno verso l'alto invece che sulle opere cioè è tutto è tutto fatto così ho compito una battuta mentre lo visitava sembra un museo ospedaliero se il criterio è quello ospedaliero uno va all'ospedale se non è forzato ad andarci no però al mare sì il mare non c'è tu vai al mare c'è una spiaggia ecco ma ti spiego com'è la mia visione del comune c'è una spiaggia non c'è la spendere assolutamente meno fai più sei contento arrivi lì ti butti l'acqua e poi c'è qualcuno che ti porta un po' da mangiare eccetera e lì ci vanno tutti e non c'è niente l'ospedale ci vai tu no perché l'ospedale se la risolta non deve riparare una gomma ovvero è un quindi è chiaro che dobbiamo togliere ogni elemento ospedaliero alla bellezza e farlo diventare come la natura è una città che ha questo museo che ha le mura timolodontè uniche nel loro genere nel mondo occidentale poi ha un artista contemporaneo come Giovanni Udice eppure da tutto questo non riesce a trarre nessun beneficio bisogna cercare di trovare la soluzione la strada più conveniente rispetto alla valorizzazione di quello che appare di per sé bello che una cosa sia bella non basta questo vaso è bello tu lo metti in questa brutta scatola bianca con una specie di ve poi al buio è come se fosse un malato all'ospedale cioè se tu bello come sei vai in giro così ti metti la cravatta ti guardano ragazzo o guardano me è diverso da quando sei messo disteso in un ospedale con un buco nel naso eppure dice la stessa persona la stessa persona e quindi ognuno di noi deve essere messo in spolvero senti ho capito che Crocetta rimane comunque nonostante tre anni e mezzo a vuoto una risorsa per Gela mi pare di aver capito che secondo il professore non lo so io l'ho visto ieri sera viene da me domani sera a cena dopo domani a cena quindi ma io l'ho sfidato dopo che non so cosa sia capitato fra noi ah sì che lui non è riuscito a risolvere il problema della fondazione piccolo sarà stata l'unica cosa che non ha risolto evidentemente l'ho un po' insultato in televisione lui mi ha telefonato e dice vorrei vederti per trovare delle soluzioni poi l'ho incrociato per strada ho detto guarda a me dispiace il fatto che tu passi cinque anni come fossi aria cioè non rimarrà nulla facciamo una cosa questa sfida ma al di là della politica le voglio solo ricordare ma lo sa che ha fatto anche quasi otto anni il sindaco di Gela quindi ne ha avuto di tempo per però adesso che ne ha di meno non viene che corra ma no che la vita io di cose ne ho fatte tante dipendiamo sempre dalla politica per risolvere i problemi quello sta lì quattro soldi li puoi spendere in un modo o nell'altro non è che li puoi far spendere a lui che fa il dipendente in un museo della regione farli spendere la regione indirizzandoli in modo giusto io non lo so poi o meno non è che ho il problema di crocetta invece torniamo professore al problema anche culturale perché ti dicevo un'apertura a 50 anni in cui la città si è aggrappata alle spalle dell'Eni punto e basta e adesso lì bisogna cambiare proprio radicalmente pensiero abbiamo sbagliato diciamo dalla ricostruzione del secondo è stato un errore del boom economico che ha portato alcuni benefici immediati e molta gente si è arricchita e ha portato a non risolvere il problema della povertà e del lavoro ma questo è un dato oggettivo però non è che possiamo ricominciare adesso dobbiamo meditare al fatto che abbiamo perso 40 anni circa bisogna vedere cosa rimane quali sono le rovine su cui ricostruire è un luogo dove le rovine sono la memoria storica è un luogo la cui puoi pensare di ricostruire ma non mi pare che si è messa meglio neanche a Grigento forse Ragusa l'area intorno a Modica Scicli ha trovato un po' di riscatto insomma però la bellezza ci vorrebbe un Montalbano anche da queste parti soprattutto bisogna far sì che la bellezza produca l'effetto di cui parla Dostoevsky però lo può produrre se è veramente bella se tu prendi una bella ragazza la graffi tutta la metti spogliata abbandonata ti sembra una poveraccia tu invece la valorizzi la bellezza è la stessa cosa senti ma se invece del presidente della regione Crocetta fosse un altro gelese e chiederti di collaborare per esempio il sindaco di Gela ma gli ho parlato anche lui però poi gli ho parlato dal primo giorno in cui è stato dominato a Salinitro che è venuto a trovarmi poi non l'ho più sentito poi ho parlato ho difeso il sindaco quando gli hanno intimato di dimettersi per cui io sono disponibile certo non è che posso continuare io non ho bisogno di bussare non lo dico per orgoglio perché è esattamente pieno di cose e se uno non mi chiede di fare qualcosa io non è che corro per chiederglielo perché ho tutti i giorni occupati però se me l'avessero chiesto avessimo pensato di fare un progetto comune io sarei stato assolutamente disponibile quindi poi non è che oggi si possa risolvere nulla però dico alcune cose così importanti non si risolvono con un brutto museo in più cioè l'architettura del museo è già il segno di un errore di partenza rispetto alla bella idea della nave ci vuole uno spazio meno costoso più semplice più attraente io suggerirei per Gela di ricorrere non a me o perlomeno a me se uno vuole dei consigli ma all'operatività di questo bravissimo scenografo che ha lavorato per Maresco che si chiama Cesare Inzerillo che è quello che ha fatto il museo della mafia che è uno che con poco può fare molto e questo il talento è questo fare una cosa ben fatta e non fare un ospedale l'ennesimo ospedale senti in sintesi cosa verrai a dire ai gelesi oggi in questa tua visita non ho un libro quindi non dico niente nessun messaggio ma non mando messaggi non sono un profeta mi pare buono il messaggio del Papa che la chiesa si faccia povera in effetti dura è molto dura ma grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti